Colpo di coda contro l'alta finanza da parte dell'antitrust di Bruxelles, prima delle elezioni europee di questo weekend, la Commissione ha formalizzato le accuse contro tre banche, la britannica HSBC, l'americana JP Morgan e il credit agricole francese. I tre istituti di credito avrebbero costituito un cartello per distorcere a loro favore i prezzi dei derivati sui tassi di interesse in euro. Oggetto delle manipolazioni, tra gli altri, il famigerato Euribor, il tasso di interesse interbancario che, insieme all'omologo internazionale LIBOR, è già costato 6 miliardi di dollari di multe complessive sui due lati dell'oceano atlantico. Soltanto a dicembre, un gruppo di altre sei banche, tra cui Deutsche Bank, aveva ricevuto una multa da 1,7 miliardi di euro, poi ridotta del 10% in fase di patteggiamento.